Ciao, ti do il benvenuto in questa nuova pratica di yoga linfatico. Partiamo subito. Chiudi gli occhi e porta la tua attenzione al respiro. All'aria che entra e che esce. Lascia andare i pensieri, ti concentri bene sulle sensazioni del corpo. Osservi l'aria che entra, osservi l'aria che esce. Schiena bella dritta. Apri gli occhi e iniziamo a fare delle belle circonduzioni del collo, andando su un lato, poi sull'altro, senza passare indietro, senza mandare la testa indietro. Andiamo con l'orecchio sinistro sulla spalla sinistra e con l'orecchio destro sulla spalla destra. Con il prossimo inspiro, sguardo avanti, porto le mani sopra le spalle e inizio a fare delle belle circonduzioni ampie. Inspirando, porto i gommeti in alto, ispirando e gli riporto giù. Respiri molto profondi. Movimenti con le spalle molto ampi. Cambio senso di rotazione. Sempre ispirando, gommeti in alto, ispirando, gommeti giù. Con il prossimo espiro, porto le mani sopra le ginocchia e muovo bene la colonna, la schiena. Inspirando, sguardo in alto, pancia e petto in fuori. E ispirando, ombelico in dentro, sguardo all'ombelico. Inspiro, apro. E ispiro, arrotondo bene la colonna. Inspiro, apro. E ispiro, arrotondo bene la colonna. Ancora. Faccio l'ultimo. E scaldiamo bene. Gambe, caviglia e piede. Iniziamo con retrocosce e glutei. Andiamo a portare le mani dietro il sedere. Gambe piegate, piante dei piedi ben appoggiate a terra. Inspirando, sollevo bene il bacino. Ascoltate bene. E ispirando, scendo. Distendo la gamba, inserendo il sedere tra le mani. Distendo bene la gamba, mi posiziono. Inspiro, braccia in alto, schiena dritta. Ispirando, scendo giù. Senza forzare eccessivamente. Allungo retrocoscia, zona lombare. Inspiro, vengo su, apro bene il petto, schiena dritta. Porto le mani dietro il sedere. Piante dei piedi a terra. E spingo forte il bacino in alto. Espiro, scendo. Distendo la gamba. Mi posiziono, porto le braccia in alto, schiena dritta. Espiro, scendo. Di nuovo, inspiro su, schiena dritta, mani dietro il sedere. Piccolissimo passo, porto la pianta del piede giù. E sollevo il bacino. Strizzo forte, forte il gluteo. Faccio l'ultimo. Scendo, inserisco il sedere. Distendo bene la gamba, schiena dritta, braccia in alto. Espiro, scendo. Faccio un piccolo passo indietro con le mani. Cioè, mantenendo questa posizione, la mano va indietro, nel punto un pochino più arretrato, andando ad alleggerire leggermente la tensione sul retro coscia. Ok? Da questa posizione, inspiro, cerco di rettilizzare la colonna. Un petto in fuori, pancia in fuori, sguardo in alto. Espiro, mi rilasso e faccio un piccolo passino in avanti con le mani. Di nuovo, inspiro, apro. Espiro, espiro, rilasso la posizione. Faccio un ulteriore passino in avanti con le mani. Di nuovo, inspiro, apro. Espiro, rilasso. Faccio l'ultimo, ritornando al punto di prima. Bene in avanti. E di nuovo, inspiro, apro. Espiro, rilasso la posizione. Riporto le mani dietro il sedere. Sollevo la gamba destra. Sollevo la gamba sinistra. Fletto le ginocchia. E vado con delle belle circonduzioni delle caviglie. Gli addominali sono attivi. Le mani sono a terra e danno supporto. Cambio il senso di rotazione dei piedi. Ancora per due. Uno. Rilasso i piedi. Distendo la gamba. Porto le mani parallele al pavimento. Tengo per tre. Due. Uno. E da qui lentamente le gambe si distendono. Le mani vanno dietro il sedere. E sollevo il bacino in alto. Spingo forte a terra. Per tre. Due. Uno. Lentamente scendo. E mi vado a sdraiare a terra. Portando le ginocchia verso il petto. Le abbraccio. Cerco proprio di tirare bene le ginocchia al petto. Da questa posizione. Vado a distendere bene le gambe. Apro bene le braccia sul pavimento. Vado proprio ad abbracciare il pavimento. L'addome è attivissimo. Cerco di mantenere la zona lombare ben aderente al suolo. Bella schiacciata a terra. Le gambe sono sempre belle tese. Lentamente la gamba destra scende avanti. Tieni la posizione. Invariata con l'addome sempre molto attivo e forte. Lentamente sollevi la gamba destra. Fai scendere la gamba sinistra. Il piede è sempre rilassato. Sollevo la gamba sinistra. Scende la gamba destra. Addome, addome, addome. Su. Scende la gamba sinistra. Ora. Gamba su. Ginocchia al petto. E le abbraccio. Rilasso gli addominali. Distendo la zona lombare.